Che anno sei? Del 99 E vivi a Como? Sì, da quando ho 7 anni più o meno Quindi tu hai fatto in tempo a vedere il lago come era prima dei lavori o no? Per un annetto diciamo sì Ricordi del lago? Molto poco così Io... Cioè, per quello che ricordo il lago è sempre stato così